Avevo vent'anni, non permetterò a nessuno di dire che è la più bella età della vita, ma è come ora questa frase di Paul Nisano una ferita. E per noi che venti o trent'anni non li abbiamo più, è una ferita ancora più insopportabile. È l'infelicità dei giovani che dicono il nostro tempo è adesso, che non è più solo esistenziale, ma è collettiva e sociale. È l'idea di non valere niente per il proprio paese, di non avere un futuro e di vedere un presente dietro le quinte a guardare gli altri che invece occupano la scena. Così vi sottraggono l'età adulta, ovvero l'autonomia, perché non c'è un'autonomia senza il lavoro, perché non c'è lavoro senza i diritti. E questo è l'impegno quotidiano della CGL, contratti veri, un sostegno al reddito contro la discontinuità del lavoro, perché se il lavoro è discontinuo la vita delle persone non lo è. Il tempo quindi è adesso, saremo in piazza insieme il 9 aprile, perché la vostra scommessa è la nostra scommessa.